Bene, il prossimo brano è un brano di Roland Nielsen, un chitarrista franco-tunisino, molto importante, un chitarrista-composidore importante venuto a mancare qualche anno fa, recentemente, e questo suo brano si intitola Songe Apisola. In questo brano è riassunto tutto quanto il suo stile improvvisativo che fonde i suoni della chitarra tradizionale con le influenze brasiliane e sudamericane, ma anche del jazz. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.